Ciao a tutti da Vittorio, oggi avevo in mente un altro video ma è uscita una notizia importante che non possiamo non trattare perché ovviamente riguarda la Lazio ed è una notizia di calciomercato importante. Prima però vi volevo far vedere questa maglietta, non so se vi piace, se cliccate nel banner sotto andate nel mio store e la trovate, ovviamente non siete obbligati ad acquistarla ma se vi piace potete farlo tramite il mio store e ovviamente sostenete il canale. e quindi vi ringrazio se lo farete. Non ho fatto un video ovviamente per questa maglietta ma c'è una notizia importante perché rimbalza questa notizia di calciomercato della Turchia perché secondo Ekrim Konur, esperto di calciomercato turco, la Lazio sarebbe pronta a presentare un'offerta di 11 milioni di euro per Getson Fernandes. Centroampista, 24enne del Besiktas, Getson Fernandes non è un nome a sorpresa, sappiamo da tempo che la Lazio lo sta seguendo, ce ne ha già parlato Pedulla un paio di mesi fa dicendo che Maurizio Sarri ha fatto una sorta di lista di giocatori che la Lazio, che lui avrebbe chiesto in caso di partenza di Minikoi Savic e visto che, anche se qualcuno mi ha scritto dicendo che non è vero, io credo che Minikoi Savic quest'estate andrà via, la Lazio si sta preparando per trovare un sostituto. Getson Fernandes è un giocatore interessante ma non è il sostituto di Minikoi Savic. Quello che vuole fare Maurizio Sarri, e lo abbiamo intuito secondo me nelle ultime partite, è dare equilibrio al centrocampo della Lazio. Un centrocampo che abbiamo visto con Minikoi Savic e Luiz Alberto è sbilanciato e quindi in certe occasioni prende delle imbarcate, ci vuole un mediano molto difensivo per correggere il tiro, trovare un po' di equilibrio. Sfruttando la partenza di Minikoi Savic, Maurizio Sarri vorrebbe trovare equilibrio e quindi Getson Fernandes potrebbe essere quel giocatore veloce, tecnico, che potrebbe ridare equilibrio alla Lazio e far giocare alla Lazio ancora meglio rispetto a quanto successo nei giorni scorsi. Anche perché, e credo che l'avrete già visto, l'intenzione di Maurizio Sarri è quella di trattenere Luiz Alberto. Luiz Alberto che quest'anno ha fatto un ottimo campionato, si è adattato al schema di Sarri e quindi quello che Sarri cerca è un giocatore da abbinare a Luiz Alberto per trovare l'equilibrio giusto, dare un po' più di dinamicità al centrocampo e quindi tirare fuori il meglio dal centrocampo bianco-celeste. Ecco, Getson Fernandes è un giocatore che ha mercato, è un giocatore interessante, seguito da altri club, è vero, ha 24 anni, sta ancora in Turchia, però pensiamo al difensore centrale del Milan, no? Kim, anche lui è venuto dal campionato turco. Il campionato turco secondo me non è così male come dicono molti e soprattutto dobbiamo essere enesti, una squadra come la Lazio non può andare a prendere giocatori dalla Premier League che è carissima o anche dalla Liga dove se vai a prendere giocatori delle prime squadre paghi dei prezzi importanti. Ecco, la Lazio deve fare come ha fatto il Napoli lo scorso anno, vai a prendere un giorgiano, va a prendere un coreano, eccetera. Devi cercare di prendere queste perle nascoste, no? Non visibili a tutti perché altrimenti poi il prezzo sale. 11 milioni di euro non è il tipico prezzo da Lazio, insomma, la Lazio di solito non vanno a spendere queste cifre importanti, però è anche vero che se vuoi crescere, se vuoi migliorare certi prezzi devi prenderli, non puoi sempre sperare di pagare due milioni e trovare un buon giocatore. E quindi la Lazio si sta muovendo anche perché Loftus-Cic, che da molti era stato indicato come l'obiettivo principale della Lazio per sostituire Minko i Savic, in realtà è molto vicino al Milan. Loftus-Cic che quasi sicuramente lascerà il Chelsea quest'estate, la Lazio seguiva il calciatore, però qui parliamo di cifre molto più alte e stipendi molto più importanti e infatti nelle ultime ore si è mosso il Milan e i rossoneri sono vicini, la trattativa è tutt'altro chiusa, ma sono molto vicini a Loftus-Cic che Sarri adorava, è un giocatore che a Sarri piace, però ovviamente ci sono poi i limiti economici e quindi la Lazio ha virato sul portoghese che insomma se Sarri lo ha provato è evidentemente convinto che potrà far bene nel trio di centrocampo della Lazio. 24 anni per cui giocatore giovane, ovvio giocatore che dovrà adattarsi a un campionato differente, però insomma parliamo di un portoghese su cui già un paio di squadre erano piombate, un giocatore interessante secondo me, un giocatore che potrà far bene, perché poi a mio avviso la parola chiave di quest'estate della Lazio è equilibrio, la Lazio al centrocampo deve trovare equilibrio e deve cercare di trovare giocatori che possono ruotare, perché quest'anno l'abbiamo visto, Masic non ha giocato praticamente mai, Marcos Antoni non ha giocato praticamente mai, alla fine la Lazio giocava con quattro centrocampisti, Cataldi, Vesino, Miliko Isavic e Luisa Alberto. Bisogna cercare di allargare il numero di centrocampisti che possono partire titolari, è vero, perdi Miliko Isavic, prendi Jenson Fernandez, io mi immagino che questo non sarà l'unico colpo al centrocampo, la Lazio deve fare qualcosina in più, però questo è il primo nome uscito, questa dovrebbe essere la prima offerta ufficiale della Lazio per un centrocampista, staremo a vedere come andrà a finire, magari avremo notizie prima della fine del campionato oppure la risposta arriverà più tardi, però questo è il primo nome, tu che ne dici, iscriviti e mi metti qua sotto e noi ci rivediamo alle due con un altro video, ciao!